allora ragazzi certo fa un po strano no avere un disco del riparpo ascoltare un disco del riparpo dove loro fanno le cover dei crim e degli alberza fra le altre cose ma lo sapete che vi dico è tutto chiaro ma è tutto chiaro i nostri amici perché sono amici perché fanno parte della nostra famiglia hanno fatto un album per divertirsi hanno inciso un album perché volevano gioire divertirsi con tu con i brani più belli della musica anni 60 e 70 ne uscito fuori un quadro straordinario suonano in maniera eccelsa gilla ne canta molto bene insomma un album veramente veramente gradevole bello non do un voto perché un album di cover ma vi assicuro è una cosa fantastico certo punto mi sono messo a ballare cioè sentire pure loro al limite che fanno dei dei frammenti di jazz di progressive di buchi buchi è bellissimo è bellissimo sono commosso un commosso non voglio aiutare 10 per tutto quello che hanno fatto nel corso della carriera sì 10 per tutto quello che hanno fatto e ci hanno regalato grandissimi riparbono un ritorno spettacolare sì 2 sì 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 sì